Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale, io sono Emanuele Artibani ed oggi continuiamo con le sfide, le abbiamo messe da parte ma oggi le reiniziamo. Da dove ripartiamo? Da un grande classico per molti, da due opposti per tanti altri, dal mio punto di vista da una grandissima logica che poi cercherò di spiegare in corso d'opera. Il titolo lo avete già letto ed è English Bulldog vs Pitbull. Volevo mettere American Staffordshire ma ho preferito di no perché sarei andato in conflitto su diverse cose. Il Pitbull, sapete come sono le sfide? Io metto insieme un po' di pezzi di quelli che considero più o meno validi e poi do una valutazione soggettiva e molti diranno come fai a paragonare un Pitbull con un Bulldog. piano ci arriviamo, piano ci arriviamo. Allora, cominciamo a fare una selezione delle cose dove è più bravo uno, dove è meglio l'altro e poi cercherò anche di spiegare perché una cosa e poi l'altra. Atletismo. Atletismo tra Pitbull e Bulldog mi sento di poter dire Atletismo potrebbe vincere il Pitbull e già da adesso in poi vi chiedo di scrivere nei commenti secondo voi per me chi vince questa sfida. Allora, atletismo 1 a 0, la porta a casa e il Pitbull. bellezza. Ora io sfido chiunque a guardare, a tornare a casa in tutta onestà, guardare il Bulldog e dirgli bello de casa. Non è facilissimo, devi avere un bel coraggio per dirgli, per carità, ogni scarrafone è bello a mamma sua, però andare da un Bulldog e dirgli bello de casa sembra un po' una forzatura. E quindi anche questa, siamo 2 a 0, la parte dell'atletismo e la bellezza la porta via il Pitbull. Perché? E perché ho preferito il Pitbull e non il Bulldog? E non l'American Staffordshire. Ricordatevelo, all'inizio ho detto che ho preferito uno all'altro, poi dopo alla fine del video vi spiegherò per quale motivo ho preferito la versione, se vogliamo, non riconosciuta, quella riconosciuta dell'American Staffordshire, quindi il Pitbull. Mettiamo dentro un'altra cosa, vita in famiglia. Vita in famiglia si la litigano per caratteristiche, nel senso che sono due cani che sanno adattarsi alla vita familiare, uno è decisamente meno impegnativo sotto l'aspetto del movimento, l'altro è un cane che ha bisogno di movimento. Però vita familiare se la litigano, bambini, bambini se la litigano, stamina, soglia di resistenza al dolore molto alta, sono due cani che più o meno, no non più o meno, si prestano tutte e due in modo molto importante alla convivenza con i bambini perché i bambini possono fargli qualunque cosa, parlando di cani equilibrati e questi avranno sempre una reazione misurata ed equilibrata quando ci sarà, parlando di cani equilibrati, non parliamo di cani che non sono equilibrati, parliamo di cani che comunque hanno una testa, hanno avuto un imprinting di un determinato modo e quindi sono sereni, hanno poche ombre. addestrabilità e quindi questa è la pareggia, addestrabilità, addestrabilità, insomma l'addestrabilità del bulldog inglese è relativa nel senso che non se ne muore proprio dalla voglia dell'essere addestrato, quindi addestrabilità secondo me è anche ridicolo metterlo davanti, insomma il pitbull è un cane che potrebbe tranquillamente fare IGP, tranquillamente Agility, può fare qualunque cosa, è un cane che si presta veramente a qualunque forma di addestramento. Guardia, bassa tutte e due, avvertono, avvertono, ma non sono dei cani da guardia, in teoria sono dei cani da difesa, se lavorato, ricordiamo che il cane da difesa sull'uomo lavorarlo in Italia è illegale, ma diciamo che anche se lavorato nella difesa alla pari e bulldog inglese e pitbull, uno è incredibilmente performante, ricordando che non si può fare, l'altro è limitato da quello che è proprio una caratteristica fisica, no? È un cane corto, respira male, quindi anche questa la porta a casa e il pitbull. E giustamente a questo punto del video uno si chiederà, vabbè, ma allora la vittoria è del pitbull, è presto detto, è presto fatto? Non per me e non su questo canale, questo è un canale che cerca di andare a fondo, sempre, nei ragionamenti, pur difendendo e amando il pitbull, ma non c'è bisogno di usarlo come biglietto da visita, visto che ne parlo spesso, ho portato questi due esempi per quale motivo? Perché il pitbull, nonostante non abbia un riconoscimento italiano dell'ENCI e quindi non vi sia uno standard ufficiale che ne insegue determinati criteri, mantiene nell'insieme una sua logica, nulla a che fare con l'American Staff for Share, perché invece deve, no? Deve comunque fare molta attenzione. Sì, conosco la realtà del riconoscimento delle associazioni americane, ma non mi interessa, non viviamo nel Wyoming, viviamo in Italia, non stiamo nel Kentucky, quindi facciamo riferimento all'ENCI che non riconosce il pitbull, pur amandolo, pur amandolo io. Ho dimenticato che forse il pitbull con gli altri cani è un po' più difficile da gestire di quanto non lo sia in realtà il bulldog inglese. Però per me vince il bulldog inglese. E questa, nelle varie sfide che ho fatto, che farò e ce ne sono tante, che ancora voglio fare, ha una sua logica. Intanto è assolutamente personale. Uno può avere la bellezza dell'orrido, no? Molti guardano un bulldog, ripeto, non puoi dirgli bello de casa, ci vuole coraggio. Ma per spiegarlo a chi per la prima volta si approccia a questo canale ed oltre a trovare altri contenuti di altro genere si ferma sui contenuti cinofili, scoprirà che il mondo della cinotecnia, della cinofilia, dell'allevamento, dell'addestramento, quando si va in profondità sono ambienti e mondi molto, molto, molto difficili. Più, non sto dicendo che allevare un pastore tedesco è più facile di allevare un bulldog, però sto dicendo che allevare un bulldog e costruire un bulldog con quegli assi craniofacciali, con quella testa, con quella montagna di problemi che si porta dietro, attenzione al ragionamento, è per un allevatore una sorta di opera omnia. è difficilissimo. Tirare fuori un bulldog inglese, bello per i criteri attuali, e sì, riconosco che non c'è un'utilità, riconosco che è stato in qualche modo anche messo il ridicolo per l'esasperazione della costruzione stessa, però è indiscutibile per chiunque vada un pochino oltre tutto questo, trovare un bulldog con quelle teste che solo a guardarla pezzo per pezzo, dal tartufo agli occhi alla lingua, ci passeresti mezz'ora. solo guardargli la testa e dire ma come è stato ottenuto un cane per mezzo di una selezione, un cane che nell'arco neanche di un mese in natura senza l'uomo sparirebbe, letteralmente. Cioè è un cane impossibile alla sopravvivenza, già dal parto diventa difficile, impossibile alla sopravvivenza del genere umano. E a questo punto qualcuno dirà ma che sei pazzo? Come fai a dire? No, non sono pazzo, sono onesto, sono un pazzo cinofilo che riconosce nel lavoro di sacrificio incredibile il raggiungimento di obiettivi impensabili. Questo non è un canale dove, e lo avete visto, sarebbe molto più semplice per me raccontare e parlare di trovatelli, no, qui si parla di cinofilia, si parla di cinofilia non quella che fa comodo a tutti, e non vuol dire che non amiamo i cani tutti, ma è un ragionamento superiore. Quindi per me la sfida tra pitbull e bulldog la porta a casa sempre il bulldog, perché la storia che c'è dietro e dentro al bulldog non c'è dietro e non c'è dentro il bulldog. Niente, volevo farmi qualche nemico, penso di essermelo fatto, se avete altre sfide scrivetemelo nei commenti, le farò prossimamente, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!